Voleva dire che davvero mancava da tanti anni, insomma sono 5 gli anni che mancava a questa Milano-Rapallo una gara davvero molto amata, una gara molto amata perché anche il suo percorso è davvero straordinario si parte veramente dalle porte, alle spalle di Bilano, lungo le pianure si arriva poi ai colli, ai colli di Busalla, di Montoggio per arrivare poi direttamente al mare quindi davvero un taglio, uno spaccato splendido della nostra Liguria che come sappiamo non è soltanto un magnifico litorale ma anche davvero un grandissimo introterra questi campioni sicuramente ricordiamo che questa manifestazione ha visto grandi nomi come ad esempio Moser e siamo giunti alla 59esima edizione, una edizione che mancava veramente da tanto il prossimo anno siamo Regione Europea dello Sport vorremmo davvero poter riportare nel palinsesto e quindi dare continuità a questa manifestazione glorificando il ciclismo siamo Regione Europea dello Sport per tanti sport ma soprattutto per il nostro ciclismo perché il nostro introterra offre davvero dei percorsi molto notevoli sotto questo profilo quindi io direi di darci un appuntamento al prossimo anno e viva il ciclismo!